ciao ragazzi è Petrone sul mio canale allora oggi sono lei su minecraft e visto che l'altra volta ho fatto tutta quella casa diciamo precisa sottoterra oggi ho fatto diciamo una casa al contrario allora ora vedrete tipo 360 milioni di scale di portali in alto mi sbaglio il perché allora forse è meglio che metto la nuova bella ragazzi siamo in survival se muoce poi tanto io non c'ho niente quindi qui allora questa casa ragazzi ho voluto fare in alto perché se l'altra è sottoterra questa la faccio in cielo sembra giusto no? si sale si sale si sale si sale ragazzi dovremmo salire per tipo non so quando comunque se entra a vedere la casetta forse magari la creativa era meglio per farvi vedere un po' sono per cascare farvi vedere un po' com'è la forma però ve lo farò vedere dopo allora vediamo gli interni allora è fatta diciamo a cavolo le forme sono tutte a cavolo ok vabbè si entra con il corredorio ora qui è infatti guardate per esempio a tutti i vetri questa casa poi ve lo farò vedere un pochino più là che ci sono tantissimi vetri lo vedrete uguale poi è fatta di diamante perché se la c'è anche di materiali non molto utile questo è fatta di diamante così nessuno mega ricco poi per esempio ci stanno i vetri ma quegli altri vetri non c'erano proprio poi qua ho fatto un contrario diciamo della casa stessa per esempio guardate un frigorifero no qui c'è per esempio carne marcia mentre a quest'altro frigorifero ci sono benedoro la macchina diciamo questo diverso e questo là quell'altro poi poi vi spiegherò perché qui ho messo i vetri rossi ve lo farò vedere perché un significato ce l'ha allora per esempio qui c'è il mio cagnolino cicciottoso ma non è proprio cicciottoso però scusi ecco qua io in piedi bravo cucciolone un bel collare da riuscire come se fosse fatto d'ora poi penso che era qui vabbè le casse qui sono tutte vuote c'è c'è di una penso questa si questa è la cazzia iossi per il cagnolone e questa qui è la mia forse poi si va qua cagnolone vabbè se si cioè potrebbe morire penso è anche io però resta legale non mi seguire è pericoloso no davvero ragazzi sarà pericoloso perché potremmo fare una cosa allora qui per esempio c'è uno secondo che le altre casse era tutto ben ordinato tutto uguale no queste sono le mie spade che fanno pure schifo quindi non sono spade belle qui tutti piccoli e le prelegge mi staccavolo qua abbiamo le cose che usiamo le pare mi staccavolo qua il carbone e non ho la fornate e l'ho fatta così a cavolo il carbone poi c'è chi mi feria non è utile vabbè tutto questo guardate tutto messo a cavolo e di legno quindi anche sotto vabbè l'arco l'arco comunque frecce che stanno qua comunque sono utili normalmente cioè non lo farò più perché con le arco anche se quell'altro stava l'arco incaldato poi qui ci sono le canne da pesca senza poi fornace quindi se pesca non faccio niente dovrò rompere qualche pezzo di casa mia e mi sa che anche lo potrò rompere perché le cose sono di legno abbiamo qua direi misi accennini penso che lo potrei rompere così comunque poi ecco un bel pezzo allora ho scoperto anche una cosa della versione aggiornata di Minecraft ok qui c'è il vetro guardate quanto siamo alti perché qui faremo pari a cantitismo infatti guardate allora voi mi stai dicendo cos'è questa cosa per chi non la conosce questo tipo di coso affanoso è una cassa c'erano tanti colori però io l'ho presa a blu perché comunque il tema è un po' di avanti quindi voilà e voilà infatti è una cassa ci ho messo tantissime ali questo è questo ragazzo quindi così e così infatti se adesso io lascio guardate la cassa tutta verde è una cassa fighissima e io ci buccio d'acqua allora intanto andiamo anche qui qui ho messo il pescale perché se lo era troppo corto ragazzi sono per cascare era troppo diciamo corto era un po' difficiletto salire il problema ok ci siamo quasi ci mancano 85-6-47 anni siamo quasi attenzione attenzione salta 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 ok qui invece è rosso come vi dicevo prima rosso come la prima vetrana rosso nel senso che qui è maggiore è più o molto più alti per esempio nooo ragazzi ho fatto l'uno scusate devo mettere la piazza perché non voglio rifarmi le 540 non voglio farmi le 540 scale anche perché ne approfitterò per farvi vedere ah per esempio qua ragazzi guardate un po' che cavolato questa casa da qui per esempio ok ho messo la cia allora qui c'ho la scala che porta dove io dovrebbe porto o quello era il mio cane l'ho visto bene se era il mio cane va bene sali 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 e dove ti porta e voilà è sulla parte è tutto chiuso ecco perché è una casa al cavolo poi allora risaliamo 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 per 500 miglia ok eccoci qua quindi come vi dicevo c'è una casa atterrati ora ci rimettiamo e pure queste ragazze infatti come vi dicevo ce ne stanno di tanti tipi se li apre e qua le ali però ho messo in modo diverso e anche di più infatti qua ci ho fatto un'interno guarda ui c'è che figata sta cazzo e adesso ragazzi ci proveremo a buttare il problema è che cuccio e no cuccio tu non puoi venire tu tu ti suicidi non ce l'hai le ali aspetta come ti faccio a fare ecco qua bravi tu ah cuccio si bau bau si anche io bau bau ok vai wii è l'ultimo secondo mi sono grappato ragazzi ok perfetto allora da questa non mi dovrei fare tanto male vabbè no cosa ho fatto sarei dovuto rimanere sopra per buttarmi dalla prima ok eccoci qua andiamo ma io penso di averleggiare le ali comunque facciamo un po' vedere eeeh no non ce l'avevo le ali va bene va di questo ok ragazzi stufiamoci 5 4 3 2 8 7 polpette via wii volare e e vabbè quando sono arrivato basta sta cosa miseriamente ragazzi eeeh sì vabbè quando sono arrivato è che allora ci ributtiamo da qua 1 2 3 4 87 polpette carote starcicce volare ok no no dai volevo salire sopra allora vogliamo vantaggio ok ragazzi me lo aspettavo come lo posso dire più bello più intenso no cosa ho fatto no ragazzi è tolto mamma mia troppo frettolosa che basti me lo aspettavo più bene sapete che mi dico adesso io creerò un terzo piano no cos'è ma l'aggia sta cosa mi si riapre ogni volta qua c'è il simboletto ragazzi dell'app che quindi registra mi si riapre ogni volta non so perché comunque se ragazzi faccio un altro piano o magari salvo soltanto in alto e ci mettiamo con le ali no se no il caricamento 5 4 3 7 8 9 15 ok siamo arrivati ah ok modalità creativa però ce l'ha salvata ce l'ha salvata na 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 si va a casa mia ah ok ancora e vabbè ma le lumore ma così non vedo niente ok saliamo 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 più alto più alto più alto ok vai a toi ma ragazzi si è ricassata ma io non so se ne salivo ah ok poi rimaniamo qua rimaniamo qua rimaniamo su vai poi si arriva qua e e succediamoci perché wiii ma la stessa no non voglio andare non voglio andare di là non ho capito cioè non ha funzionato credo credo non lo assicuro non lo assicuro riproviamo vabbè ragazzi mi sa che non ci basta questa cosa vedete ci sono questa non funziona ragazzi cioè a me non è sembrato di volare ci siamo anche morti ma non mi è sembrato di volare un massimo planare siamo scesi troppo velocemente riproviamo ultima volta a me non mi è sembrato proprio di volare non so voi se mi buttano di qua allora via 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 salto e vai vai e non mi sembra regolare vabbè comunque da qui ci possiamo buttare vabbè ragazzi il mio genio è finito qui nella prossima casa penso visto che l'ho fatta una uguale e una diversa non so quale altro idea ma potete fare suggeritevolo voi sotto i domenzi e noi ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao